salve a todos siamo qui questo nuovo video molto breve e semplice ma allo stesso tempo importante siamo qui nel video della sarchiatura melone invernale a una parte dei meloni invernali questi qua sono i meloni invernali quelli neri noi li chiamiamo spagnoli delle spagnoli sarebbero quelli neri un po sbruzzoluti allungati che fanno le grettine molto molto buono allora pioggia a non finire sole a non finire aria non finire e che succede che il terreno si fa la crosta i 16 si in coppola bene questa coppola questa famosa coppola ha i pro e i contro nel senso nel caso dei meloni è un contro perché i raggi del sole non riescono a penetrare questo strato perché guardate è uno strato molto importante questo strato di terreno indurito fa come da scudo quindi aria sole non riescono a penetrare all'interno del terreno e perché dovete sapere che le radici respirano hanno bisogno di respirare ossigeno quindi facendo una sarchiatura basta poco è una lavorazione di così di profondità giusto per togliere questa coppola e le vernaiole ringrazieranno perché qui si chiamano le chiamiamo vernaiole le vernaiole ringrazieranno tantissimo inoltre ci sono delle infestanti come vedete e andranno sparite questo è il risultato e questa questo scoppolamento diciamo così permette al calore di passare e asciugare il terreno quando ci sono molte piogge che il terreno comunque sia resta per tanto tempo umido mollo ok si ma a volte ok no cioè nel senso quando che è troppo mollo e le radici magari possono andare un po in asfissia meglio dare ossigeno meglio dare aria perché ricordate che una sarchiatura una zappettatura è come una concimazione è come una concimazione quindi è molto importante è molto importante vedete sotto la coppola la terra è umida è umida perché questa coppola fa come come da protezione per il sottosuolo quindi può essere un pro per chi magari vuole mantenere l'umidità sotto ma nel mio caso che ho l'impianto a goccia quindi l'acqua gliela do quando voglio quindi io la coppola gliela tolgo ora vi faccio vedere un attimino il sarchio questo qua il sarchiatore vado su a cavallo del del telo e poi ritorno giù molto semplice ora vi faccio vedere un video dell'operazione in atto e niente quindi detto questo ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao